Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di PringiLukatech Purtroppo è finito il Natale, sono finite tutte le festività e io di questo sono davvero dispiaciuto perché amo il Natale e tutto quello che ci gira intorno Ma è iniziato il 2018 e io sono pieno di buoni propositi, progetti e cose da fare durante tutto quest'anno Il primo proposito è quello di impostare un colore per ogni mese Quindi ragazzi per il mese di gennaio ho scelto un colore un po' più naturale, ovvero quello della natura, il bianco neve Che ragazzi è qualcosa di spettacolare, quindi vado ad impostare il colore del mio desk setup sul bianco E ragazzi state attenti perché prossimamente ci saranno tantissime novità sul mio desk setup e su tutti i progetti che voglio portare avanti Quindi ragazzi direi di passare al video di cui parleremo oggi, ovvero l'estrazione del giveaway e di passare subito alla nuovissima intro Ed eccoci qui ragazzi, ho dovuto ripristinare un pochettino il mio retroscena perché con il Natale avevo ricreato qualcosa di più particolare e festoso Ma che assolutamente non si abbinava col mese di gennaio perché come vi dicevo voglio fare una differenzazione mensile E ragazzi gennaio io lo vedo un mese molto easy e minimal Quindi ragazzi direi adesso di passare all'estrazione del giveaway parlandovi dal computer qui alle mie spalle Ed eccoci qui ragazzi, direi adesso di andare a fare l'estrazione di questo giveaway Poi ho dato qualche giorno in più perché c'erano stati pochi iscritti ma ho visto che la cosa non è cambiata Quindi oggi che è mercoledì 10 gennaio sto andato a fare l'estrazione Quindi adesso andiamo a vedere con precisione quanti sono i partecipanti per fare il conteggio preciso Come potete vedere qui ci sono 12 commenti con la possibilità di partecipare E quindi direi di andare su random.org per andare a vedere chi è il vincitore Quindi andiamo a mettere il limite massimo di 12 persone, avevo scritto 16 E andiamo a cliccare su generate Io ovviamente non ho partecipato a questo giveaway ma il vincitore è il numero 5 Partendo in ordine cronologico dal primo all'ultimo andiamo a vedere chi è il vincitore Allora Lady G è la prima, seconda Marianz, Master Geek è il terzo, Filippo è il quarto E Orazio Arcidiacono è il numero 5 Quindi sei tu il vincitore Quindi se stai guardando questo video contattami subito tramite Instagram, Facebook o dove altro vorresti contattarmi Ma direi adesso di passare alla mia faccia Ed eccoci qui ragazzi e complimenti ad Orazio per la sua vincita Tanti auguri e ti raccomando contattami al più presto su Facebook, Instagram o dove altro vorresti contattarmi Quindi ragazzi io vi saluto con questo video e vi dico che questo video è stato girato completamente col mio nuovissimo iPhone X Che vedrete l'unboxing domenica sul mio canale Quindi assolutamente non perdetevelo Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto perché molto presto ci saranno davvero tantissime novità Quindi ragazzi io vi saluto e vi dico che dovete seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter E che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube Grazie a tutti